Buongiorno dal secondo trofeo Oli e Benji, siamo qui dopo la partita tra Atena Club e Atletico Pedara finita con il risultato di 3 a 1. Siamo con Gaetano Russo per quanto riguarda l'Atena Club Allora Gaetano è andata bene questa partita? Sì abbiamo giocato bene nel tutto E siete riusciti a fare risultato poi? Questo caldo come è andato per la testa più caldo? Bene Bene diciamo a me ci siete abituati tutti quanti Sì Va bene ok, ci dico che ci vuole la piscina, in campo si può fare entrambe le cose Allora poi invece andiamo con Emanuele Cortina per quanto riguarda l'Atena Club e Atletico Pedara Allora Emanuele cosa è successo in questa partita? Beh sì, abbiamo sbagliato ma potremmo fare molto di più Avete un po' sprecato perché comunque nella presente partita siete riusciti a giocare molto meglio Anche il vostro numero 11 andava da una parte dall'altra però ovviamente ci vogliono i cambi e dovete giocare un po' tutti Sì È giusto anche questo Va bene e li lasciamo andare perché li vediamo stremati ormai i ragazzi Ed è tutto per il trofeo Oli e Benji, ci vediamo dopo E' tutto per il trofeo